Piello quanto ti vorrei insieme a Sciablo sulla prima radio della capitale siamo in diretta con Roma di Giorno sulle frequenze a Roma del 104 a Latina 98 e 100 a Rieti 91 e 800 siamo in diretta anche però in tv al 115 del digitale terrestre nella regione Lazio e sul 14 con Supernova TV questa è Roma di Giorno il programma che vi racconta la giornata della capitale io sono Marco Napoleoni ogni tanto però qui anche a Roma di Giorno cerchiamo di uscire di occuparci di altre tematiche e questa è una tematica che è veramente importante perché purtroppo le persone che sono coinvolte in questa storia parliamo in questo caso di vaccini e di reazioni avverse purtroppo in Italia sono un po' troppo nascoste almeno a mio giudizio me ne sono accorto conoscendo una ragazza che si chiama Chiara e che purtroppo è stata consigliata dal suo avvocato di non intervenire anche per farvi capire quale sia il clima intorno a questa vicenda lei mi ha detto se vuoi puoi citarmi chiaramente io ci tengo che la mia storia possa arrivare a più persone possibili però mi ha detto io non potrò non potrò intervenire in diretta e sono stato incuriosito appunto da alcuni suoi post che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram perché sotto al post appariva una una scritta no una schermata dello stesso social che raccontava appunto come i vaccini fossero sicuri e tutto quanto quando lei raccontava semplicemente la sua esperienza quello che cercheremo allora di fare qui a Roma di giorno è anche di dare voce a persone che ripeto purtroppo non ne hanno e sembra quasi che vengono citati soprattutto solo come numeri ascoltavo anche l'altro giorno su un canale televisivo molto noto che non mi va nemmeno di citare che venivano appunto citati i numeri sulle reazioni avverse dicendo dei numeri poi intervengono persone che hanno avuto tantissime esperienze di qualsiasi tipo però poi io non vedo mai nessuno che effettivamente racconti la propria esperienza da questo punto di vista per questo io ringrazio Roberto che è in collegamento con noi che è un operatore sanitario di 26 anni di Torino che che è qui buongiorno buongiorno Roberto buongiorno buongiorno intanto grazie per per essere qui per voler condividere con noi la tua storia io lascerei direttamente la parola a te per raccontarci la tua vicenda e poi magari ti faccio qualche domanda o cerchiamo anche di raccogliere questioni che vengono sollevate dagli ascoltatori va bene grazie mille allora innanzitutto ringrazio tantissimo per questa opportunità che non è assolutamente scontata in questo periodo te lo assicuro e va beh ringrazio Chiara e tutti gli altri ragazzi che hanno avuto purtroppo reazioni avverse siamo già un bel gruppo ci siamo trovati su Instagram casualmente e abbiamo creato diciamo un bel gruppetto che ci permette di di darci una mano insomma di sostenerci durante questo periodo io appunto 26 anni sono un operatore sanitario e ho effettuato la prima dose a marzo del 2021 sono stato uno dei primi appunto essendo operatore sanitario stato male già dal giorno stesso fin dalla sera stessa ho iniziato ad avere cefalea bruciore all'altezza delle tempie sulla fronte sopra gli occhi con senso di stordimento e vertigine inizialmente non ci ha dato troppo peso perché il mio medico di base mi ha rassicurato dicendo che era tra gli effetti che potevano accadere durante i primi giorni e sarebbe andato via da solo nel mio caso non è andato via da solo nel senso che dopo due tre settimane ancora avevo questo questo problema e quindi avevo poi effettuato una visita neurologica dove ho fatto anche una risonanza magnetica che non ha riscontrato nulla il neurologo diciamo che mi ha liquidato in maniera abbastanza rapida dicendo che avevo una cefalea tensiva che dovevo prendere dell'aroxil che è un antidepressivo triciclico per chi non lo sapesse io non mi sono limitato a questo non ho mai assunto farmaci perché non era quella secondo me la risposta e purtroppo non ho mai capito a cosa fosse dovuta quella cefalea che è andata poi ad affiavolirsi un po nell'arco di poi tre mesi dalla somministrazione oltre a questo a partire da circa una due settimane dalla prima dose ho iniziato ad avvertire fitte al petto che peggioravano se mi sdraiavo e ho iniziato anche ad avere tachicardia e disnea quindi mancanza di fiato oltre che un forte affaticamento che non ero solito avere considerando che io lavoro sul territorio quindi mi sposto molto sul territorio della città mi sono proprio reso conto che muovendomi io mi affaticavo andavo in tachicardia facilmente e appunto queste fitte col tempo invece di diminuire aumentavano allora mi sono prenotato una visita cardiologica e mi sono reso conto di avere del liquido intorno al cuore e mi è stata diagnosticata una pericardite acuta con versamento inizialmente la diagnosi non ha correlato la questione alla vaccinazione ma mi è stata fatta diagnosi di pericardite conversamento post colpo d'aria non specificato ma scusami Roberto per capirci perché tu ci hai detto che sei stato ovviamente uno dei primi a fare il vaccino quindi chiaramente capiamo anche no quanto fosse complicato per gli stessi medici che ti hanno visitato poter capire le il fatto che queste conseguenze potevano o no venire dal vaccino semplicemente perché non c'è tu eri uno dei primi casi di studio mettiamola così è detto in modo molto brutale ma tu essendo anche una persona che lavora in ambito ospedaliero potrai sicuramente comprendere anzi forse hai avuto la fortuna di saperti orientare meglio di tantissime altre persone che magari nella tua situazione non hanno saputo letteralmente dove sbattere la testa però per capirci quando ti hanno diciamo diagnosticato questa pericardite in che periodo eravamo e allora la prima volta che mi hanno diagnosticato la pericardite eravamo attorno a fine aprile ok e poi ho fatto altri accertamenti per cercare di capire se il problema fosse solo legato al cuore o avesse intaccato anche i polmoni quindi ho fatto un attacco e per fortuna era limitato al cuore e poi ho cambiato un po di cardiologi perché io non ci stavo al fatto che avessi una pericardite post colpo d'aria perché le fit mi sono arrivate dopo una due settimane che avevo fatto il vaccino e quindi mi sembrava che potesse quantomeno essere degno di indagine questo questo fattore più che altro diciamo che ho trovato molto difficoltoso trovare dei medici che mettessero anche solo in dubbio il fatto che ci potesse essere una correlazione o meno ho capito poi per fortuna ho trovato un ottimo cardiologo che mi ha appunto seguito e mi sta seguendo tuttora perché sono ancora in terapia e mi ha dato molto molto una mano su questo ed è lui che mi ha poi scritto nero su bianco la correlazione con cui non senza difficoltà sono riuscito a ottenere un'esenzione perché anche questo è un problema molti ragazzi che hanno subito reazioni avverse purtroppo non riescono ad ottenere l'esenzione oltre che cure cure non riescono ad ottenerle perché è difficile essere presi in carico seriamente da dei medici che abbiano comunque la volontà di seguire delle ipotetiche reazioni avverse e poi l'esenzione è difficile averla perché non avendo una diagnosi è impossibile accedere al sistema delle esenzioni e anche con una diagnosi ti assicuro che non è così facile perché comunque al lab vaccinale molto difficilmente rilasciano esenzioni ho capito quindi aiutami a capire anche tu però questo aspetto quando tu vai come funziona proprio praticamente cioè tu hai un referto medico che dice che la pericardite è correlata quantomeno al vaccino quindi comunque devi recarti al lab vaccinale e da lì con quei documenti loro ti rilasciano un altro documento nel quale c'è la tua esenzione esattamente proprio così e quanto dura poi questa esenzione cioè è varia ad esempio io sono stato tra i primi ad averla perché io già avevo la pericardite quando avevano iniziato a rilasciarle e posso dire che è stata la mia fortuna perché ad oggi non credo me la rilascerebbero più perché ad oggi è quasi impossibile ottenerne una e praticamente la mia scadeva il 31 di settembre poi è stata rinnovata sempre di mese in mese e praticamente tu non ti devi più recare in lab vaccinale dopo che ne hai avuta una ma si rinnova in automatico quindi ti tieni quella con la data scaduta non è importante perché il ministero fortunatamente ti tutela da quel punto di vista e rilascia in automatico delle circolari che permettono appunto di proseguire con l'esenzione tuttavia purtroppo appunto ripeto non è così facile riuscire proprio ad avere la diagnosi che ti permette di accedere al sistema di esenzione e questo lo vedo anche attraverso il comitato ascoltami io sono un membro del direttivo del comitato ascoltami che appunto è un gruppo che non non so se conoscete che è nato proprio da un insieme di vaccinati che hanno avuto reazioni avverse che stanno cercando di raccogliere insieme appunto altri vaccinati con reazioni avverse per riuscire insieme a sensibilizzare innanzitutto l'opinione pubblica e la sanità pubblica rispetto a questa tematica perché il problema più grande è che non abbiamo una diagnosi molto spesso non abbiamo delle cure e soprattutto non abbiamo esenzioni da altre dosi certo no ma sai anche cosa ne parlavo prima con un'altra ragazza che poi tramite ovviamente te mi ha contattato anche lei perché anche lei ci tiene a raccontare la sua storia nei prossimi giorni la sentiremo c'è anche un fatto che il fatto che voi non abbiate risonanza anche dal punto di vista mediatico e tanti tante persone che hanno avuto delle reazioni purtroppo avverse dopo il vaccino non hanno come dire la possibilità di scambiarsi informazioni poi non l'hanno i medici a livello clinico hanno più difficoltà e non l'hanno nemmeno i pazienti perché quello che ci dicevamo appunto con questa ragazza prima a telefono se tu magari avessi conosciuto persone prima con la tua stessa problematica parlandone insieme magari c'era qualcuno che riusciva a consigliarti c'era qualcuno che riusciva a darti indicazioni e avresti risolto un problema o saresti stata aiutata prima di dover spendere a tue spese a tuo carico non so quanti soldi lei abbia speso sinceramente per fare tutti i controlli che poi si sono rivelati totalmente inutili e quindi c'è anche questo aspetto c'è il fatto che se ne parli così poco di queste reazioni avverse per quanto sia chiaramente un aspetto diciamo a livello numerico minoritario perché chiaramente abbiamo vaccinato tantissimi milioni di persone quelli che hanno fortunatamente cioè sfortunatamente reazioni avverse poi sono numericamente un numero esiguo però poi quello che io non avevo mai capito e che ho iniziato a capire incontrandovi è che quelle poche persone però ci sono hanno una vita e già sono state sfortunate chiaramente e così addirittura rischiamo di tutti quanti di peggiorare la situazione tua e quella di tanti altri ragazzi magari per per chiudere roberti ti ringrazio tantissimo però intanto volevo chiederti come stai oggi cioè adesso come stai allora grazie ad oggi io continuo ad assumere la terapia farmacologica sono migliorato rispetto a come stavo all'inizio assolutamente ma continuo ad avvertire fitte al petto e affaticamento non ho una vita comunque normale io prima facevo trekking e attività fisica non ho la vita che avevo prima cioè ora mi affatico a salire al secondo piano del mio appartamento quindi non so se riuscirò poi a tornare come ero prima io spero di sì solo con molto tempo però ad oggi la mia vita non è assolutamente quella che avevo prima e credo che il processo di guarigione sarà ancora lungo prima di chiudere volevo solo se mi lasci lasciare i contatti del comitato ascoltami perché è importante appunto proprio per evitare di rimanere soli e di non avere la possibilità di confrontarsi con altre persone perché poi si finisce in questo limbo di solitudine e isolamento facendo esami a caso e sentendoci comunque molto lasciati da parte chiunque abbia avuto reazioni avverse si senta solo abbia voglia anche solo di scambiare due parole con altre persone nella stessa situazione può trovarci su www.comitatoascoltami.it e sulle varie pagine del comitato ascoltami che sono su facebook instagram tiktok e anche telegram va bene siete siete un po ovunque questo era ovviamente anche l'obiettivo di di questo nostro incontro in diretta chiamiamolo così perché penso sia fondamentale anche soprattutto dare un conforte un aiuto senza stare qui a fare valutazioni e senza stare a litigare in 10 su sì no vax effetti questioni green pass no green pass insomma noi in questo spazio almeno ce ne interessa poco l'importante era poter raccontare la storia di roberto ne racconteremo altre nel corso dei prossimi giorni e insomma speriamo di poter dare una mano soprattutto a chi è più in difficoltà in questo periodo grazie roberto per anche per aver avuto a quanto pare il coraggio di intervenire di raccontare di raccontare la tua storia per avercela riportata in maniera seria ed educata e speriamo di risentirci presto quando starai meglio quando avrai novità su insomma su su questa tematica così delicata ed importante grazie mille grazie a te per lo spazio grazie grazie e buona giornata a roberto noi ci ritroviamo dopo un po di pubblicità